Ebbene se qualcuno oggi, ieri o domani pensa che il futuro della Lega sia ancora quello di un partitino servo di qualcun altro, di Berlusconi o di Forza Italia ha sbagliato a capire, noi non saremo più schiavi di nessuno, noi accordi a ribasso non ne faremo con nessuno. Non mi interessano le poltrone!